Dichiaro chiusa la votazione. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Identici 13.6, Ciprini 13.7 e Marroni. Dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario. No, chiedo scusa. Onorevole Marroni, prego. Revochiamo la votazione. Schiacci il bottone. Grazie Presidente, solamente per ricordare che è vissuto un po' incomprensibile il parere contrario del Governo a questo emendamento perché era frutto di un ordine del giorno che era stato accolto in un precedente provvedimento. Grazie. La ringrazio. Non bisogna altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Contra la Commissione del Governo, favorevole il redattore di minoranze. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 13.9, Ciprini, contraria Commissione del Governo, favorevoli i redattori di minoranze. Votazione aperta. Grazie. 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 Grazie.